In diretta da Rosolini, Sicilia, Italia, Europa, 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 Europa. Ed ecco a voi, direttamente dalle Iene Show, e... Come mi chiamate? In diretta, streghetta e cornuta, ecco, siamoci! Siamoci! Nella scuola c'è qualcosa che non va! Nella scuola c'è qualcosa che non va! Andiamo a verificare! Non l'ha fatto meglio quando si mettevamo a ridere! Ma perché?